Buongiorno amici telespettatori, oggi vi faremo vedere un altro video Questo è un altro nuovo video, siamo tornati un'altra volta a Fabrizio, un po' paura e cercavamo di mettere un po' di break e siamo arrivati a 2 ma che mettere a 300 possiamo arrivare, vi passo, passi, chiudo Non sappiamo cosa dire, non sappiamo cosa fare, ma adesso ci proveremo a fare qualcosa Abbiamo avuto più di 100.000 like Facciamo ridere, non è vero niente quello che sta dicendo mio fratello però cerchiamo di avere 300.000 like E poi cercheremo di farvi saltare E ridere, a voi guardate E mi piacerà, buona visione Non sappiamo cosa fare Allora ci mettiamo a fare dei salti Veramente questo qua l'abbiamo fatto dentro l'altro video Ma speriamo questo E prendiamo 4-5 like Però non saltiamo assai Però facciamo, penso, facciamo ridere Buona visione Buona visione E vedete e ridete Tutti i telespettatori Spero che vi piace E metteteci un po' di like E spereremo di averli Speriamo di averli E il primo successo A tutti i nostri telespettatori A tutti i nostri video A tutti i telespettatori Buona visione Buona visione Lotta Questo è un po' di inizio Vedremo di farvi ridere un po' con un po' di lotta Saltando sempre Non so voi, mettete un po' di like E ridete sempre Siamo qui ragazzi Penso che vi è piaciuto il video E mettete Speriamo che prenderemo successo E mettete 5-6 like Grazie a tutti Grazie a tutti E il mio fratello Grazie a tutti Vi voglio ringraziare anche il mio fratello Buonvenuti E questo è Vi è stato piaciuto Ma il prossimo video sarà Di farvi saltare tutti Ancora più bello il prossimo video Ci prepariamo ancora prima E penso Verso la prossima settimana Con O GTA O con Mini Craft O con Mini Craft Scrivete Commentate E mettete like A voi Ciao Ridete sempre Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti